niente è reale a meno che tu non creda nelle circostanze non sta succedendo davvero niente fino a quando non salti nella lavorazione body mind quello che sono dietro qualsiasi superficie di storie è presenza immutabile immobile e tu sei uguale sembra che ci incontriamo come persone ci incontriamo ma le persone non ci sono incontriamo solo il nostro se non c'è differenza nella realtà nessuna separazione noi siamo il sogno tutto dentro tutto in uno eppure siamo noi il sognatore eppure muoversi e festeggiare ed è per questo che ti amo grazie a tutti